Mio figlio va in ansia tutte le volte che ha un compito o una prova, si blocca e non riesce a fare nulla. Cosa posso fare? Questo è un disastro. Questo è il prodotto finale di un'educazione che è cominciata quando un bambino gattona. Perché un bambino che gattona deve andare contro una credenza. Va contro la credenza, nessuno si precipita, bernoccolino se proprio va male, pianto se proprio va male e poi si ripiglia. Bacini sulla bua e si riprende. Ma certo, vuol dire che queste persone non hanno, questi ragazzi, 16 anni di vita, 17 anni di vita, non hanno gli anticorpi nei confronti delle frustrazioni. Perché hanno paura di essere interrogati? Perché gli abbiamo garantiti che qualsiasi esame andrà bene? Da quale eternità? E che è poi una grandissima bugia. Perché poi nella vita ti si propongono gli inciampi. Ci sarà una ragazza che ti lascia? Ci sarà un nonno che muore? Mi spiego? Nella vita ci sono gli inciampi.